La comunità delle Benedettine con ogni probabilità nacque a fermo già nel 1200 ma le monache ottennero l'attuale sede del monastero di San Giuliano nel 1500 successivamente furono attuate migliorie nelle strutture e venne edificata una nuova chiesa nel 1735 poi le monache espulse nel 1865 per le leggi delle soppressioni trovarono asilo nel monastero di San Pietro dove aprirono un educandato nel 1875 e una scuola materna nel monastero interessante e loggiato chiuso da vetrate con volte a crociera vi viene offerta ospitalità finalizzata alla preghiera e vi è un refettorio per gli ospiti inoltre viene offerta accoglienza per ragazze desiderose di compiere un'esperienza monastica